Ugo è stato in fondo uno strano padre, uno che mai ha avvertito il bisogno di fare una predica, di dirti come devi vivere, come devi regolarti e perché. Insomma, non si è comportato con noi assumendosi il ruolo del maestro. Al contrario, ci ha sempre lasciato fare come preferivamo. Guardandoci da fuori, qualcuno può avere pensato che fosse del tutto disinteressato al suo dovere educativo di padre. Può anche darsi, ma quello era il suo stile, non aveva quel bisogno di imporsi che molti genitori manifestano. In alcune occasioni mi sono sentito dire, tuo padre non sa nemmeno come vai a scuola. Meglio, è questo che ho sempre pensato, meglio per lui e meglio per me, meglio per tutti. Non c'è dubbio, tuttavia, che Ugo si discostasse sensibilmente dal padre canonico, il padre della letteratura classica. Ho sempre pensato che tutto questo fosse rispetto per le scelte altrui, giuste o sbagliate che gli apparissero. Accadeva che un suo amico ospite a casa in nostra presenza chiedesse, allora, che farà questo ragazzino da grande? E lui di solito rispondeva, l'agronomo, immagino, con la terra, con i vini della tognazza, magari presto mi diventa agronomo e prende tutto questo sotto il suo controllo. Era la sua maniera di sdrammatizzare la questione, di farci capire che in fondo ciascuno aveva piena libertà di decidere del proprio avvenire.